Il Presidente Ferrero Il Presidente Ferrero Il Presidente Ferrero per cercare di migliorare sempre le mie capacità di sicuro parlando con luca rizzo pazzini così anche soprattutto pazzini che penso che abbia passato qua la sua migliore stagione con anche cassano ma hanno sempre descritto la città e la squadra come qualcosa di strepitoso soprattutto anche rizzo che l'ho sentito ultimamente mi ha consigliato subito di venire qua i miei obiettivi di quest'anno con la samodale di sicuro è migliorarmi e crescere sempre di più soprattutto fare meglio di come hanno fatto l'anno scorso cercare sempre di ammigliorarci insieme ai tifosi mi sento di dire che in campo metterò tutto quello che ho e cercherò di dare qualcosa in più questa squadra e soprattutto questa tifoseria che anche quando d'avversario venivo ho sempre visto come una grande tifoseria un saluto a tutti i tifosi della samp ci vediamo allo stadio a tutti i tifosi di ammigliorarci insieme ai